Ernesto Neiten muore oggi a Roma nel 1921. La Roma che viviamo noi oggi inizia con lui, guida e artefice dei progetti che l'hanno resa una capitale moderna con i servizi cittadini delle società municipalizzate, elettricità, acqua, gas, telefono, scuole, trasporti pubblici, approvvigionamento annonario e nuovo polo industriale ostiense. Questa storia comincia nel 1907, un anno che segna una svolta nel governo di Roma. Dopo 37 anni di amministrazione aristocratica, il nuovo sindaco Ernesto Neiten è eletto grazie alla vittoria del blocco popolare, un rabruppamento che comprende radicali, repubblicani e socialisti. Neiten rimane in carica fino al 1913 e si distingue per le importanti iniziative prese in campo amministrativo e urbanistico. L'azione della Giunta è sostenuta dall'approvazione delle due leggi Giolitti per Roma, che offrono anche un sostegno finanziario alle iniziative e una serie di strumenti idonei per l'attuazione della nuova politica urbanistica. Mutui per gli espropri, una nuova determinazione della tassa sulle aree fabbricabili, gli incentivi per l'Istituto Case Popolari, i finanziamenti per le opere pubbliche, l'obbligo di predisporre un nuovo regolamento edilizio. Permisero all'amministrazione capitolina di affrontare la stessura del piano regolatore della città. Neiten affida all'architetto Saniust di Teolada la realizzazione del nuovo piano regolatore. Il nuovo piano è dimensionato per una popolazione di circa un milione di abitanti con una previsione di incremento di 516.325 unità nei successivi 25 anni. L'area del piano, per la prima volta nella storia della città, comprende molte nuove aree esterne alle mura aureliane. È delimitata da un viale di circonvallazione, l'attuale asse costituito dall'Olimpica e dalla tangenziale est, che da Ponte Milvio corre lungo la riva sinistra della Niene, esternamente a Villa Chigi, al nuovo quartiere di Piazza Bologna, al Verano, al nuovo quartiere Apio, agli insediamenti della Portoense, a Villa Doria Panfili, per chiudersi sul piazzale di Ponte Milvio, dopo aver costeggiato il nuovo quartiere di Piazza Darmi, oggi quartiere della Vittoria. Il piano prevede l'espansione di Roma in nuovi quartieri costituiti da villini, ville e fabbricati intorno a Piazza Verbano, via Salaria, via Flaminia, San Lorenzo, Lappio Latino, Portuense e Monteverde. Vincola, alcune ville storiche come Villa Panfili, Villa Borghese, Villa Chigi, Villa Savoia che non subiscono la sorte di Villa Ludovisio dei Vigneti dell'Esquilino. Con il piano si realizza un progetto di grande respiro per l'esposizione universale del 1911 e le celebrazioni del 50 anniversario del Regno al quartiere Flaminio e al della Vittoria. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato il periodo del governo Neite negli incontri online sulla Terza Roma e abbiamo ricordato molte volte l'epopea di quegli anni di intense, positive trasformazioni per Roma. Oggi salutiamo il nostro sindaco. Cuore rosso. Punto. Punto. Da Roma due pass. Roma moderna, Italo in Solera. La costruzione di una capitale, Mario San Filippo. Punto. Punto. Avventure urbane Rehabitat La terza Roma Roma moderna Roma capitale Ernesto Natan PRG 1909 Blocco popolare. Roma culture. Caminar di Nuovo di Beatrice. み Man проц Oh.